Eccola la banda delle slot ripresa dalle telecamere a circuito interno mentre mette a segno l'ennesimo colpo al bar del Baradero nella zona Catona ad Arezzo. In pochi minuti abbattono la serranda con una jeep, poi un uomo completamente vestito di bianco e a volto travisato si fa largo tra le macerie e lega le slot all'auto. Tra l'altro approfitta del fatto che le macchinette siano già legate tra loro da una catena messa dal proprietario però proprio per evitare che venissero rubate. La jeep parte e le slot vengono trascinate via come se fossero di cartone. Il bottino sarà di appena 3.000 euro, il danno al locale si aggira intorno ai 20.000. Queste immagini si riferiscono al febbraio scorso. Le indagini della squadra mobile di Arezzo si sono concluse all'alba del 5 di dicembre con l'arresto dei quattro componenti della banda. Tutti albanesi, regolari, con famiglia, lavoro da manovali, uno domiciliato a Firenze e gli altri ad Arezzo. La stessa banda è ritenuta responsabile anche del colpo al bar della Marchionna ma non è escluso che possano essere coinvolti anche in altri episodi. La banda delle slot è finita in carcere, è un segnale importante al tessuto commerciale a Retino? Assolutamente sì, è una risposta seria, forte. Il questore si era impegnato in prima persona e aveva chiesto il nostro sforzo in questo senso. Siamo lieti di essere riusciti ad arrivare a ottenere il risultato delle quattro ordinanze nei confronti di una banda organizzata che riusciva, sebbene non sia contestata l'associazione, ma un forte concorso tra loro e una professionalità di queste persone in questo tipo di furti. La responsabilità di questi quattro soggetti è per, in questo caso, due casi specifici ma non è escluso che siano responsabili anche degli altri casi? Assolutamente sì, due ipotesi accertate di furto. Non si esclude, visto il modus operandi comune, visto il tipo di aggressione e la capacità loro di delinquere in questa maniera, con dei tempi di reazione assolutamente brevi, i furti venivano svolti tutti in più o meno tre minuti di intervento da parte loro, non si esclude che possono essere autori di altre attività delittuose sulle quali stiamo indagando.